Levante in versione biancaneve, è lei la più bella del reale Oltre ad essere conosciuta come una delle voci più apprezzate del panorama artistico nazionale, Levante è diventata una diva della televisione, partecipando in veste di nuovo giudice ad X Factor. La sua bellezza e il suo stile sono immediatamente diventati argomento di discussione sui social e la cantante ha conquistato una larga fetta di pubblico, incantato dal suo stile gips inconfondibile. Poche ore fa sul suo profilo Instagram Levante ha postato una foto in cui appare come una biancaneve moderna, la foto ha raggiunto oltre 40.000 like. La cantante è molto apprezzata dal pubblico non solo per le sue doti canore, ma anche per il suo carattere sofisticato, eclettico e a tratti elegante. Il suo profilo Instagram daltronde, rappresenta molto bene la sua personalità con foto anche talvolta concettuali, che mostrano solo dettagli. Levante ha insegnato che per avere successo su Instagram, non è necessario mostrarsi sempre in primo piano, sfoggiando outfit all'ultima moda e scattandosi selfie out, il fascino e la sensualità per lei, risiedono nei dettagli e nelle parole. Così poco tempo fa ha pubblicato una foto che la ritraeva come una vera biancaneve, mentre la sua immagine si rifletteva in uno specchio vintage, caratterizzato da una cornice elaborata. Nella foto, la cantante indossava un abito bianco decorato con pizzi e con un fiocchetto legato al collo nero, che riprendeva lo stesso colore della cintura. I capelli erano sciolti e naturali, come è solita portarli, mentre la stanza in cui è stata scattata la foto era adornata da una carta da parati chiara, con decori floreali. Si tratta di una foto davvero particolare, che spicca nel panorama delle star di Instagram, arricchita anche da una caption che riporta i versi della sua nuova canzone Le mie mille me. Il pubblico ha apprezzato il post con oltre 40.000 like in poche ore e più di 300 commenti di apprezzamento, sia per il suo outfit, sia per il suo talento musicale. Gli outfit trendy di Levante. In ogni sua foto, Levante mostra outfit che fanno tendenza. Alcuni sono fuori dalle righe, come quello indossato per la foto da Biancaneve, altri sono casual, mentre altri ancora mostrano un'eleganza raffinata. Il mustave del look di Levante è la stampa a fantasia, i suoi abiti infazzi sono quasi sempre a righe, con fiori, foglie oppure con stampe a fantasia. I suoi outfit uniscono lo spirito rock, con l'anima indipendente e a tratti hipster della cantante. Tra i suoi tessuti preferiti c'è sicuramente il denim, che lo indossa sia come jeans preferibilmente strappati, ma anche come giacca in stile anni 90. Dopo il denim segue la pelle e in particolare il chiodo in versione nera. Un altro capo che non può mancare nel suo armadio è il cappotto Versidze, con colori tendenti al beige e al marrone. Sono numerose infatti le foto che la ritraggono con cappotti di questo genere, seguendo appieno il trend del momento. Un altro capo che non può mancare nel mondo.